Sestri, escursionista a soccorso a Punta Baff, un 27enne inciampato cadendo per un paio di metri sotto il sentiero che stava percorrendo, portato sulla strada vicina dei soccorrettori e stato accompagnato in auto fino all'ambulanza della Croce Rossa di Riva che ha provveduto a trasportarlo al pronto soccorso di Lavagna. Intervento a Sestri Levante per un 27enne di Sassello che durante un'escursione a Punta Baff è inciampato cadendo per un paio di metri sotto il sentiero che stava percorrendo, impossibilitato a continuare l'escursionista ha alertato i soccorsi sul posto al soccorso alpino e speleologico della Liguria e i vigili del fuoco. Il 27enne è stato stabilizzato e medicato con una cavigliera rigida dai sanitari del soccorso alpino. Portato sulla strada vicina è stato accompagnato in auto fino all'ambulanza della Croce Rossa di Riva Trigoso che ha provveduto a trasportarlo al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna. Il vice sindaco di Chiavari Michela Canepa ha incontrato l'amministratore unico di arte Paolo Gallo per discutere di manutenzione straordinaria delle case popolari. E' importante risolvere il primo possibile le problematiche strutturali degli edifici presenti sul territorio comunale per garantire un alloggio sicuro ai cittadini, ha affermato Canepa. L'amministratore unico di arte e i suoi collaboratori ci hanno illustrato la situazione attuale degli stabili, il piano di interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili. Massima collaborazione da entrambe le parti, conclude Canepa, per permettere al maggior numero di soggetti in graduatoria di accedere agli stabili. Da oggi il servizio di bus gratuito delle comuni di Chiavari collegherà anche San Piero di Canne. Tre le nuove fermate che sono state installate in piazza a salvo d'acquisto, in prossimità della chiesa di San Pietro e in via Colonnello Franceschi. Sulla bus oggi l'assessore comunale Alessandra Ferrara, il direttore dei servizi provinciali di AMT Andrea Geminiani e il responsabile d'esercizio della rete provinciale Roberto Rolandelli. La linea gratuita 902 è diventata un servizio essenziale per Chiavari, dichiara l'assessore dei trasporti e mobilità sostenibile Ferrara. Insieme ad AMT abbiamo studiato una tratta che potesse accontentare il più possibile le esigenze dei cittadini e dei turisti per arrivare in ogni parte di Chiavari, dal centro fino ai quartieri di San Piero di Canne e Caperana. A volte bisogna perdere una battaglia per vincere una guerra. Addirlo è il consigliere comunale di minoranza a Sestri Levante Marco Conti che commenta la condanna per diffamazione continuata a mezzo stampa nei confronti di Marcello Massucco, amministratore delegato di Mediaterraneo Servizi che gli è stata inflitta dal Tribunale di Genova. Conti fa sapere che presenterà ricorso in appello. La mia, dice, è stata una battaglia finalizzata a tutelare il pubblico interesse o espresso attraverso il mandato elettivo il diritto di critica politica. Il consigliere comunale di minoranza ricorda inoltre che il progetto Vettrine Agroalimentari di Qualità al centro della vicenda è stato nel frattempo archiviato perché Mediaterraneo Servizi ha chiuso il sodalizio con il gestore Emporio Sass Tapullo per rispondere, ricorda Conti, maggiormente alle finalità di pubblico interesse dell'immobile. Dal 6 al 12 aprile, in concomitenza con il periodo pasquale, è prevista una sospensione quasi totale dei cantieri sulla rete autostradale della Liguria. Addiello l'assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone, dopo che ieri si è riunito il tavolo tecnico permanente costituito per fare il punto sull'andamento la programmazione dei lavori. I primi tre mesi dell'anno verranno utilizzati per compiere il maggior numero di lavorazioni possibili per poter così alleggerire nei mesi successivi, solitamente con maggiore presenza di traffico, l'impatto dei cantieri. Sulla 12 fino al 6 aprile proseguiranno dunque i cantieri sulle barriere di sicurezza con scambi di carreggiata. Il comune di Lavagna rivede il piano di utilizzo delle aree demaniali e elimina tre zone destinate a spiaggia libera attrezzata, prevedendo al loro posto spiaggia libera fruizione. Due di queste aree sono sul lungomare Labonia, la terza all'altezza della frazione di Cavia Renelle. La delibera approvata dalla giunta comunale prevede inoltre che siano traslate le aree destinate circoli in zona Cigno, dalla posizione attuale a contatto del mole che siano collocate strutture di servizio agli stessi circoli. Nelle premesse la giunta comunale scrive che sono in corso diversi contenziosi con privati aventi come oggetto il rilascio di concessioni demaniali marittime che è opportuno eliminare le spiagge libere attrezzate, sostituendole con spiagge totalmente libere, questo si legge per una migliore fruizione delle aree demaniali da parte di tutti i cittadini e turisti. Inoltre, secondo sempre l'aggiunto, un diverso assetto del litorale può essere utile al fine di eliminare eventuali dubbi interpretativi sulla pianificazione futura, vista la prossima scadenza delle concessioni demaniali ricettive ad oggi fissata al 31 dicembre del 2023. Continua il restauro gratuito dei monumenti di Santa Margherita Ligure. Dopo gli interventi già conclusi sulle statue di Giuseppe Garibaldi in Viale Andrea Doria, sul lungomare di Ghiaia, dei caduti del mare in Corso Marconi, di Giuseppe Mazzini, nell'omonima piazza proprio di fronte al municipio, e di Vittorio Emanuele II ai Giardini Amare, sono partiti i lavori alla statua di Camillo Benso Conte di Cavour in piazza Fratelli Bandiera a Corte. Si tratta di restauro e illuminazione a costo zero a cura della società Vivenda di Roma, a cui il comune di Santa Margherita Ligure ha concesso tramite apposito contratto di autorizzazione il permesso temporaneo di utilizzare a scopo pubblicitario lo spazio ricavabile dalla copertura dei ponteggi. Questo vale solo per tre, uno all'anno, dei nove monumenti interessati dagli interventi. Due esposizioni pubblicitarie sono già state sfruttate. Gli altri monumenti da restaurare sono quello della Giustizia e quello a Giacomo Costa, in parte già compiuto, il monumento a Umberto I in via Miraglio Canevaro e l'eliminazione del Castello Cinquecentesco. Abbiamo qui personalmente Martina, Martina che si occupa? Di eventi, eventi live, solo eventi esclusivi live, musica e cultura. Sono venuti qua a trovare gli amici del Royal Map perché ci sono delle band particolari. Mi ha spiegato lei quello che dicevo prima, giuro. Abbiamo, seguiranno gli U2, non U2, abbiamo la band ufficiale che viene da Bari e sono gli Underskin, sono un gruppo di ragazzi che voi, ragazzi, sono identici agli U2. Perfetto. Dopodiché abbiamo Rino Gaetano, tributo ufficiale, questo è il 18 di febbraio, anche lì è da non perdere. È da non perdere, come tutte le band chiamate. Esatto, è un nome che ci ha lasciato un segno e sarà intramontabile. Dopodiché avremo invece una serata Bluegrass, Bluegrass Country, che sono il quintetto di Genova. È una band country.bluegrass che ha suonato e continua a suonare in tutto il mondo. Abbiamo il piacere e l'onore di averlo qui, dove Del Tufo, Denise e il papà ci hanno aperto le braccia. e ci hanno accolto e speriamo che il pubblico apprezzi. Ma certamente, ne sono più che sicuro. Questo è solo l'inizio, signori, queste sono le prime date, perché poi proseguiremo. Sì, certo. Quindi vi raccomando, non perdete una data di questo importante evento. Ringraziamo Martina, ringraziamo il Royal Map qui di Calvary, anzi San Colombano-Certeno, esattamente. La via? Sì, via Zavatteri. 5. Non perdiamo le occasioni, andate a rivedere i filmati, così vi segnate subito in agenda le date, che sono importantissime. Chi piace uno, chi piace l'altro, dovete venire qua. Noi ci vedremo qua perché vengo anch'io a vedere sicuramente, a sentire. Poi la musica live, ragazzi. Esatto, non si devono perdere l'occasione. Il tema di quest'anno è tratto da una frase di Eraclito. Ogni anno traiamo il tema del concorso da una frase di un personaggio celebre. Quest'anno abbiamo scelto Eraclito dalla frase e dalle cose in contrasto che nasce l'armonia. Contrasti quindi appunto il tema di questa nuova edizione. E pensiamo che sia un tema molto caro ai fotografi, basti pensare a quante belle foto ci sono di contrasti, di luci ed ombre. Ma noi l'abbiamo inteso in senso molto lato. Contrasti di ogni genere, contrasti di pioggia e di sole, di caldo e freddo, di vecchio e nuovo, di artificiale verso naturale. Insomma, tutti i tipi di contrasti che nella nostra routine quotidiana ci capita di incontrare. Partecipare è molto semplice. Innanzitutto il concorso è gratuito e aperto a tutti e basta inviare un massimo di tre fotografie dal tema contrasti all'indirizzo email renderevisibilelinvisibile at gmail.com Trovate comunque tutte le informazioni relative alle edizioni precedenti, un po' di storia del nostro concorso e il bando di questa nuova edizione sul nostro sito internet www.renderevisibilelinvisibile.it o seguendoci sulla nostra pagina Facebook Rendere Visibile l'Invisibile. Come ogni anno, i migliori 50 scatti scelti dalla nostra giuria tecnica, che ricordo essere composta dai fotografi Paola Leoni, Stefano Camba, Tatiana Chessa e Alice Moschin, che ringrazio, verranno esposte in una mostra fotografica nella splendida cornice di Villa San Giacomo a Santa Margherita Ligure il weekend del 25 e 26 marzo, sabato e domenica. 25 marzo, domenica alle ore 11, ci sarà la premiazione del concorso, durante la quale, oltre ai tre vincitori decretati dalla giuria tecnica, verrà premiato anche il vincitore secondo la giuria popolare, perché, come negli anni precedenti, sarete voi a votare il vincitore della giuria popolare, come venendo a vedere la mostra il 25 e il 26 marzo a Santa Margherita e votando, soprattutto nella giornata di sabato 25 marzo, la vostra foto preferita. Quindi avete tempo fino al 20 febbraio per partecipare a questa undicesima edizione del concorso fotografico Marco Corvisiero, sbizzarritevi, lanciatevi in foto di contrasti e inviate le vostre tre migliori fotografie all'indirizzo e-mail renderevisibilelinvisibile at gmail.com Spargete la voce e buona luce a tutti!